Ci siamo accomodati in questo stand dove vediamo delle location particolari dove andare per festeggiare appunto il matrimonio nel migliore dei modi. E non solo, dove siamo? Siamo a Taormina, praticamente con tre strutture che possono accogliere le coppie. Il Grand Hotel San Pietro, il nostro 5 Stelle Lusso. Per il periodo estivo abbiamo il Caparena che oltre al classico Lido che è molto conosciuto in zona fa anche dei ricevimenti nuziali, delle serate molto particolari, molto carine. Il classico, l'ex Jolly Hotel, quindi il Villa di Odoro che ha ripreso un forte slancio dalla scomparsa della vecchia compagnia che rimane praticamente aperto tutto l'anno. Quindi dall'imbena all'estate offriamo un prodotto diversificato e particolare nel sud. Quindi solamente agli sposi rimane semplicemente la scelta, perché insomma voi date un'ampia scelta, anche il costo varia dal locale a locale? Sì, ovviamente sì. Trattandosi proprio anche del nostro albergo di punta che è il Grand Hotel San Pietro, il nostro 5 Stelle Lusso, in cui il nostro chef Cristian Busca è veramente un'esperienza culinare unica, molto particolare, molto ricercata, anche se non è siciliano, si è adattato molto alla sicilianità, alla ricerca del prodotto, per poi via via diversificare i prodotti, appunto la bellissima piscina dell'hotel di Odoro che si affaccia sulla Baia di Naxos, il prato all'inglese, molto particolare all'hotel Caparena. Quindi diciamo che noi partiamo da una base di 90 euro per persona, quindi nulla di proibitivo, per poi via via andando ad ampliare un po' quelle che sono le aspettative delle future coppie. Ricordiamo appunto dove possono venire ad informarsi le future coppie. Sì, in tutte e tre le strutture, il Mila di Odoro appunto come dicevo poc'anzi rimane aperto tutto l'anno, quindi non è un problema. Nelle altre strutture c'è sempre qualche responsabile come i nostri direttori, un responsabile della struttura che li accoglie dietro appuntamento. Avete un sito internet? Abbiamo un sito internet da visitabile, il sito è www.gaishotels.com dove possono trovare larghe informazioni e anche tante altre piccole chicchie come il pacchetto di San Valentino per l'hotel di Odoro, il cenone di fine anno fatto al Villa di Odoro, i pacchetti benessere per il Cavarena, la rotonda sul mare che vedete qui alle mie spalle, un evento molto molto particolare, anche per chiedere la mano alla futura sposa, perché no, che si affaccia direttamente sulla splendida isola Bella, quindi visitateci. Perfetto, allora da prima del matrimonio a dopo il matrimonio, vi aspettiamo.